Qui è una continuazione, cani che vengono sette, otto per volta e i zanzari ci stanno massacrando, è impivibile questo spazio eppure c'è anche una legge che dice che nei luoghi pubblici è pietato portare i cani, qui invece fanno come gli pare, non si dice niente. Sulla macchina, non so di qui, vengono anche da fuori, poi tra l'altro ci stanno dei cani che fanno la cacca, poi sono seduti sulle panchine, a me gli fanno...